. Da Tokyo, i risultati Dopo il ritiro, con festa, di Kimiko Date, presente grazie ad una vid card per salutare il pubblico di casa e dominata in due rapidi set dalla Kroonik, il torneo di Tokyo inizia ad entrare nel vivo. . Si fondono incontri di primo e secondo turno, emergono verdetti interessanti. Elise Mertens ha 21 anni ed è in costante crescita, in stagione vanta risultati ottime su differenti superfici. . Semifinalista qualche settimana fa a New Haven, sbaraglia la concorrenza della Linette ed avanza a passo spedito. Terzo turno per la Belga, come per la Kroonik. Concede il bis e piega la rische, settima testa di serie. . Amaro ritorno per Sam Stossur. Problemi fisici alle spalle, manca però la continuità di campo. L'Australiana si aggiudica il set iniziale, cala poi alla distanza. Due ore oltre di tennis, 36-75-61 per la Sorribbe Stormo. . La Nara, a parziale sorpresa, si aggiudica il derby nipponico con la Osaka. Più del successo stupisce il divario, 63-60 Nara. La Dias festeggia l'ingresso in top 100 superando la Doi. Qualche interrogativo iniziale, poi una corsa senza ostacoli. . Buon approccio anche per Shuai Zhang. La cinese, seconda forza, controlla l'olandese Ogin Camp, doppio 63 e passa acquisito. Infine, affermazione per Lam Shale con la Kroonik, proveniente dalle qualificazioni. 62-64 il finale. . 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